Il Codacons chiede l'intervento dell'esercito per proteggere i siti di stoccaggio situati in provincia di Salerno. La richiesta arriva dal Vice-Segretario nazionale Matteo Marchetti. Chiediamo al Prefetto, afferma il Vice-Segretario, di fare intervenire con urgenza l'esercito a protezione di tutti i siti di stoccaggio situati in provincia di Salerno, per prevenire altri incendi del genere. Infatti non pensiamo si tratti di pura coincidenza ed è opportuno vigilare con la massima allerta.